Salve, chiedete. Oggi è il 29 febbraio. Simena in i costi enati flevari. Oggi, quest'anno, è un anno bisestile. Avto sochronos in visectos, visestile. Vuol dire, simeni, che ha, o chi è, 29 giorni. Toc' certo, 29 giorni. Lo sapete. Allora, c'è un modo di dire, perché è un idiotismo. Credo, anno bisesto, anno funesto. Vediamo se c'ho ragione. As-dume, anejo. Bisesto. Anno. È vero? Non lo so. Funesto. Funesto. Ok, vediamo un po'. As-dume. È un modo di dire, anno bisesto, con una S sola. Ok. Perché si dice? Perché? Perché? Vediamo un po'. As-dume. Vediamo. Anno bisesto, anno funesto. Ehm, ok. L'hai equiparato, sì. Ok. Ehm, dove si qui spiega perché esiste l'anno bisestile, chi talipà, chi talipà, eccetera. Ehm, perché? Non sono stati romani a dire questo, negli archie romei. E mesi e feriali. Ferialis, delle morti. Ok. Leapier, ok, di sectosano. Oggi si chiama Leapier. Ok, veramente. Den katalava, je di lene. Den katalava. Den berasi. Ok. Den berasi, non importa. Non importa. Non importa. Den di affari. Den di affari. Den di affari. Ok. Ehm, cosa dire? Tina pume. Molto importante è sapere le cose basilari. Vassica pragmata. Katal khas. Ta vasica. Allora, questo, quello, quelli, quelle, questo. Diciamo questo, le me, questo. Ia katipune. Vicino. Vicino, lontano. Vicino, lontano. Vicino, lontano. Quindi, qualcosa che è vicino, diciamo, questo. Qualcosa che è lontano, quello. Esiste kodesto, alla cannes, lo ha utilizzato, che per ieri, per, così, per curiosità. Lo ha utilizzato, quando lontano, lo ha utilizzato, lo ha utilizzato, la cannes, lo ha utilizzato. che cos'è con questa cosa tolene monos in toscana ciò ti ammazzano i miei grammatici quando impariamo la grammatica questo questo e quello questo è quello qual è forse le mie afto afto delinealizia questo non è vero oi calca mia foraglia ottene una ferro messo seccati sto parezzo quello non era vero le mie apostasi sto crono parastin paromia fisica post assisti popolo ma che possiamo misurare in centimetri e metri quindi questo e questa questa naturalmente è femminile silico plurale e regolare poi li hanno o malò questi e queste o a i e po' l'esfores le hame questa mattina le hame stamattina afto proecchita po' to proforicologo po' le hame sto a po' questa mattina sta mattina sta mattina entrado nella lingua italiana biggest in italica e canonica e glossa che in e sta sera che in e sta sera sto giorno stavolta 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 andina buome questa volta adegraffetemi alexivo stamattina stanotte stavolta simeni questa volta attuale che parla polisina stavolta questa volta ne potete ne dupite e in e micres se ne dica tizelis tizes che andate che andate allora riguarda questo edo polis foreslem sta persona sto vaso dove lo metto in e mia cazumelum e me ne glossa o boritene questi movite e oggi ecco se ne sto ne amminti o che li smoppite chiedi ahhh andate che sarete calati glossa neanche te calipro forafente ligo paraceno nato simpite allora quindi allora preppi ne ha toccato la veneta allora sto cappello dove lo metto sai preppi ne questo cappello dove lo metto eczi quale sfores edo sti romi genica comune lexis andi napome dove lo metto lexis dove lo metto in do polis fores cano popo si elines dinome dinome ottito do mi asime in do poliparaceno molto strano ma è così quindi sto cappello dove lo metto simeni questo cappello dove lo metto quindi questo questi e chino se ne quello quello quella quindi eccome alle lexip metà covume quest'altro le leme questo altro quello altro lignite quell'altro ok panda questo altro mobile dove lo metto quest'altro mobile dove lo metto metto in evaso quindi questo questa quelli quelli ho danno i lexip archisi metto a e si fa niente i me lexip puoi archisi me gli o s z per esempio quegli altri dalle me quelli altri anni ne filico quell'altre perfito l ad adere vienegli quegli altri niente quelle altre o quell'altre più caro quell'altre quindi quegli squali e chini i carcari es quegli squali otan obbio lexip soenico ecchi tollo lo squalo lo zucchero lo stupido soplendico meglio vienegli acci que lo tollo simba riferete opos il ok so le 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 ne parche te le riparche i suoi nomi quelli 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 aeroplani quelli uomini quelle donne quelli strumenti lexip lexip marcis un s str quelli strumenti quelli stronti afti malachis quelli stronti quelle stronti aftes ima calai malachis menes signomi che lexip ala ne quello quelli questa questa questo caffè e greco alifina afto is in elinico caffè greco i pacisti romi mia paglia napaglio caffè ne parla con il con sto pu pigano le polizia ne antropi intellectual intellettuale pu le caffè greco greco quindi per esempio questo cellulare è antico insomma vecchio questo quegli ukulele quelli lepete andro lepete stanno sul muro ok quella quelle sono chitarre chitarre la chitarra le chitarre è questo 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 è un ukulele questo è un ukulele l'ukulele l'ukulele questo ukulele è blu e bianco blu dietro e di lato lato davanti dietro di lato questo si chiama manico e questi si chiamano corde queste corde sono nere queste corde sono nere ok quindi questo ukulele è leggero 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 è piccolo questo leggero è piccolo questo ukulele è leggero è piccolo questo ukulele è più grande è più pesante mentre questo ukulele è più piccolo è più leggero questo ukulele è marrone colore ok tutti e due gli ukulele entrambi sia questo che questo hanno quattro corde quattro corde ok questo ukulele ha quattro corde e questo ukulele anche quegli ukulele hanno quattro corde ok questo ukulele entrambi sia questo sia questo tutti e due ukulele hanno quattro corde queste corde sono nere come vedete queste corde sono trasparenti, due di metallo ora lo rimetto a posto fa trovare si fessi tu appeso che anche questo è appeso quindi questo questi, queste quelli questa lezione è importante questa lezione è aftoto mafima in simmandi ko è molto importante in polisimmandi ko è importantissimo in simmandi ko da to ok? cos'altro? ti ha una pume? boh a chietà abbastanza per oggi